vi do il bentornati qui sul mio canale e vi do il benvenuti in questo nuovo video per chi è un appassionato di tecnologia e telefonia si sarà accorto del cambiamento di rotta adottato da tre di quei brand considerati qui in italia come minori stiamo parlando di cubot ulefon e blackview quello che mi ha sempre stupito di questi brand minori è il fatto di essere tutto sommato piuttosto ben conosciuti nel nostro paese grazie principalmente a noi piccoli youtuber che spesso e volentieri parliamo dei loro prodotti nelle nostre video recensioni c'è però da dire che gli smartphone commercializzati in questi contesti minori hanno sempre mantenuto un livello qualitativo alquanto bassino display ips noccia goccia risoluzioni generalmente in hd plus fotocamere mediocri processori dalle prestazioni così così materiali di costruzione decisamente economici e plasticosi e non voglio andare oltre nel 2021 sia cubot che blackview stavano andando benino con i modelli x50 e a 100 due smartphone in linea con la media degli altri concorrenti più blasonati avevano entrambi nfc e risoluzione full hd plus peccato per i display ips ciò nonostante erano entrambi sulla buona strada ma a causa della situazione globale che aveva colpito tutti ci fu una progressiva e percettibile retromarcia già a partire dalla fine del medesimo anno un vero schifo tant'è vero che la moda dei noccia a goccia e delle odiose cornici panciute sopravvive ancora oggi nel 2024 e non trascuriamo nemmeno il fatto che questi smartphone di solito una volta messi in commercio ricevono pochissimi aggiornamenti sulla sicurezza raramente ricevono almeno un aggiornamento major sul sistema android e vengono quindi lasciati a sé e buonanotte paradossalmente mentre avanzava questa tendenza a fare retromarcia in casa transition sembrava accadere l'opposto infatti a partire da metà 2022 i loro brand tecno mobile in phoenix iniziarono a commercializzare smartphone con display amoled fotocamere più raffinate e prestazioni migliori ma ora torniamo al nostro argomento dunque cosa sta succedendo a cubot ulefon e blackview finalmente da tutti e tre questi brand c'è stato il fatidico salto di qualità che ha alzato l'asticella di alcuni modelli di smartphone usciti quest'anno cubot attraverso il suo sub brand a fury ha commercializzato uno smartphone chiamato mit ulefon ha messo in commercio uno smartphone denominato con poca fantasia note 17 pro ma la parte del leone direi proprio che l'ha fatta blackview perché non solo ha presentato due smartphone di qualità superiore ma uno dei due è addirittura pieghevole e credo che farà molto parlare di sé in virtù del prezzo decisamente accattivante rispetto alla concorrenza più famosa mi riferisco al modello a 200 pro e al modello hero 10 lo smartphone pieghevole la prima cosa che ho apprezzato su tutti questi nuovi device è l'aver visto sparire quelle brutte antiestetiche cornici goffe e panciute sul lato inferiore altra cosa che mi è molto piaciuta è la scomparsa di quei bruttissimi noccia a goccia eureka al loro posto vedere la fotocamera selfie con il panciol certo non pretendo mica di trovare la selfie camera sotto il display abbiamo display amoled di buona fattura con luminosità che si attesta nella media dei millenits addirittura 1500 nits sul cubo tmit nel caso di blackview a 200 pro abbiamo un elegante display curvo che ovviamente so bene non piacerà a tutti abbiamo in tutti i device refresh rate che arrivano a 120 hertz non gli manca niente sul comparto sensori a partire da nfc gps bluetooth di ultima generazione e tutto quello che caratterizza la categoria dei medio gamma e che dire dello sblocco schermo anche su questa caratteristica c'è stato un salto di qualità perché abbiamo lo sblocco sotto il display e non quello laterale sul tasto di avvio tuttavia anche in questo caso non stiamo parlando di uno sblocco fulmineo o da petardo come si usa dire però funziona bene e generalmente non perde colpi vorrei spendere ora qualche parola sul comparto hardware ecco e davvero sorprendente constatare l'onnipresenza del chipset mediatek helio g 99 su tutti e quattro gli smartphone come mai helio g 99 è un processore di mediatek che ha poco più di due anni sul gruppone infatti molti lo definiscono già vecchio e obsoleto ma d'altronde anche i processori top di gamma col tempo invecchiano e vengono poi rimpiazzati dai nuovi questo helio g 99 è un chipset che io conosco molto bene perché è presente sullo smartphone infinix note 12 2023 che ora usa mia moglie e sul mio attuale smartphone personale cioè infinix note 30 pro non ci ha mai fatto rimpiangere altri smartphone e credo che fra tutti i processori di mediatek questo helio g 99 sia uno dei migliori mai realizzati stabile performante e non troppo succhia batteria quando ho recensito infinix note 30 pro ho voluto metterlo a dura prova cercando di provocare legge inceppamenti ma devo dire che ha resistito piuttosto bene ai trattamenti certo non pretendo che nel 2024 un chipset con processo produttivo a 6 nanometri sia paragonabile con lo snapdragon 8 generazione 4 e nemmeno con i processori bionic di apple certo che no ma vi assicuro che saprà difendersi degnamente ancora per qualche annetto sul comparto della ram tutti e quattro gli smartphone offrono una generosa quantità di memoria che spazia da 8 a 12 gigabyte in media che possono raddoppiare con la cosiddetta memoria boost non abbiamo ovviamente moduli di ultima generazione dobbiamo accontentarci di quelli di dr 4x stessa cosa vale per la memoria di archiviazione che è di tipo ufs 2.2 sulla quantità di memoria di archiviazione questi smartphone si sono allineati con gli altri medio gamma quindi 256 gigabyte tuttavia noteremo stranamente che un ephone note 17 pro non possiede lo slot per la micro sd mentre gli altri persino il pieghevole hero 10 ce l'hanno da parte mia vi raccomando sempre di non usare micro sd troppo grandi perché di solito rallentano un pochino le prestazioni dello smartphone vogliamo finalmente parlare delle fotocamere perfetto la prima cosa che voglio subito mettere in chiaro è che qui non abbiamo dei camera phone siamo sempre nella fascia di prezzo dei medio gamma i cui valori di mercato a me sembrano leggermente sopravvalutati dai rispettivi brand basti fare un giro su aliexpress per constatarlo salvo poi offerte dei vari negozi online sebbene non ho ancora avuto l'opportunità di recensire questi smartphone e non so se mai l'avrò posso però basarmi sulla mia esperienza con altri device della stessa fascia perché poi alla fine sono molto simili fra di loro pertanto vi posso dire questo a proposito delle fotocamere in tutti e quattro gli smartphone abbiamo la fotocamera principale da 108 megapixel e la fotocamera frontale da 32 megapixel eccetto la 200 pro che ha invece una selfie camera da 16 megapixel ecco sui dettagli tecnici delle fotocamere esattamente come per tutto il resto vi metterò a fine video le schede tecniche che potrete consultare io preferisco restare sullo stile della chiacchierata e non sul troppo tecnicismo la qualità delle fotocamere dovrebbe essere più che decente e in condizioni di buona luce portiamo a casa scatti di buona qualità entro i limiti del segmento di prezzo ovviamente con poca luce arrivano i problemi si sa che questi smartphone vengono aiutati dal software quando c'è scarsa luce tuttavia non possiamo chiedere troppo ricordiamo che se vogliamo dei convertitori di segnale video di qualità professionale serve pagare ben altre cifre in ultima analisi dobbiamo ammettere che il mondo dei brand minori comincia ad uscire dal letargo nonostante sia cubot ma anche ulefone pure blackview sono specializzati nella produzione di smartphone ragged bisogna dare atto della volontà di voler imporsi sul mercato con qualche novità che ovviamente non è di certo una novità comunque non vè dubbio sul fatto che in merito ai materiali di costruzione di questi quattro smartphone è stata prestata una maggior attenzione soprattutto nel pieghevole ma è ugualmente giusto avere la consapevolezza che acquistare questa tipologia di smartphone comporterà delle rinunce e dei compromessi ad esempio non avremo mai la certezza in merito agli aggiornamenti sulle patch di sicurezza e sugli aggiornamenti major di android il pieghevole hero 10 esce con android 13 ulefone note 17 esce anche lui con android 13 cubot meet esce pure lui con android 13 e a 200 pro esce con android 13 nessuno ha la versione 14 e non sappiamo fino a quanto saranno seguiti con gli aggiornamenti e ovvio che almeno un anno di patch di sicurezza dovremmo ragionevolmente aspettarceli poi si vedrà nessuno di questi smartphone alla connessione 5g ma solo quella in 4g sono molto curioso di poter mettere mani su hero 10 perché mi piacerebbe vedere come si comporta il display secondario come si comportano le cerniere di apertura e chiusura del device e vedere con quanta cura è stato realizzato il display da 6,9 pollici full hd plus 21 noni giunti alla fine di questo video non mi resta che ringraziarvi per l'attenzione vi ricordo sempre di seguire e supportare il mio canale iscrivetevi lasciate un like e commentate arrivederci al prossimo video